Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l'autostrada 19 Palermo-Catania e la nuova sede della statale 640 Strada degli Scrittori. Lo rende noto l'ANAS, sottolineando in una nota che nelle notti comprese tra martedì 29 marzo e venerdì 1 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà necessario chiudere al traffico la rampa dello svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale e diretti a Palermo. Il percorso alternativo da oggi prevede l'immissione in autostrada mediante lo svincolo di Ponte 5 Archie dopo aver percorso le statali 640 Dir, 626 e 640 in direzione Caltanissetta-Xirbi, 122 bis e 121.